il sorprendente couscous di verdure albicocche ciao amici ecco una ricetta simpaticissima che porta colore sapore leggerezza in tavola ricetta vegetariana per quattro persone ecco come si prepara ingredienti 500 grammi di couscous 200 grammi di ceci lessati 6 albicocche essiccate 3 cucchiai di uva sultanina un'arancia spremuta un cucchiaio di succo di limone una zucchina una melanzana un peperone rosso 3 cucchiai di olio extravergine di oliva 2 cucchiaini di spezie per couscous o indiana al curry 150 grammi di yogurt greco 4 5 cucchiai di latte di soia 10 noci 4 foglie di menta sale malayano quanto basta pepe quanto basta noi andiamo pazzi per il couscous se piace anche a voi mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video preparazione 1 prima preparate il couscous seguite le indicazioni sulla confezione contemporaneamente scolate e sciacquate i ceci lessati 2 poi occupatevi delle albicocche tritate le albicocche mescolate all'uvetta al succo d'arancia e succo di limone lasciate riposare per 5 minuti unite il tutto al couscous e mescolate bene ora preparate le verdure tagliate le verdure a dadini e fatele insaporire in una padella con olio extravergine di oliva sale pepe e il mix di spezie per couscous quando sono cotte fatele raffreddare un po e unitele al couscous 4 nel frattempo dedicatevi alla salsa mescolate lo yogurt greco e il latte di soia fino a ottenere una crema tritate le noci e aggiungetele aggiungete anche le foglie di menta tritate finemente e se serve un po di sale e adesso gustatevi il couscous di verdure albicocche con la salsa di yogurt potete mangiarlo come primo oppure come piatto unico magari in ufficio a pausa pranzo che buono proprietà degli ingredienti principali il couscous è ricco di fibre altamente digeribile ricco di energia i ceci forniscono proteine vegetali ricchi di sali minerali promuovono la salute delle ossa le albicocche sono un frutto ricco di vitamine sali minerali e fibre sono preziose per la pelle e per gli occhi le melanzane sono diuretiche e drenanti contengono minerali come potassio magnesio e fosforo oltre che vitamina a b e c i peperoni sono ottimi antiossidanti ricchi di beta carotene vitamine e sali minerali le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico senza grassi saturi né colesterolo lo yogurt greco è quasi privo di lattosio è molto concentrato e ricco di proteine e fermenti lattici il latte di soia è ricco di aminoacidi essenziali e proteine con poche calorie grassi l'olio di oliva extravergine è antiossidante protegge fegato cuore arterie migliora le attività cognitive il sale imalaiano nelle giuste dosi è ricco di sodio minerali e da energia quindi buon couscous a tutti per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche mangia consapevole e vivi meglio va in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao